Il sughero è leggero, elastico e naturale. Di sughero sono fatte le bacheche su cui appendiamo i ricordi più belli che non vogliamo dimenticare e gli obiettivi che vogliamo raggiungere. Di sughero sono fatti tutti quegli oggetti in grado di resistere al passare del tempo, come valori in cui crediamo e che portiamo avanti da generazioni. Il sughero è un materiale resiliente, esattamente come noi, che pur avendo fallito molte volte, in realtà non abbiamo mai fallito, perché non abbiamo mai smesso di provarci. E ogni giorno ci dedichiamo con passione alla conquista della nostra meta.